E allora vediamo chi saranno i primi due che si prenoteranno e che diranno si può fare per i tessuti aerei. I heard that you settle down, that you found a girl and you married now, I heard that your dreams came true, guess you gave you things. I didn't give to you, old friend, why are you so shy, ain't like you to hold back, but won't hide from the light. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it, I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you, I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I'll remember losing. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts in state. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, never mind, I'll find someone like you, I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I think I'll remember losing. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts in state. Never mind, never mind, never mind. Vieni Silvia, ricevi l'applauso meritatissimo perché ci hai fatto sognare tutti con il naso all'insù a seguire la tua performance. Ma poi guarda che cosa incredibile, si sono prenotati tutti. No, Catrin no. Maria Melia è obbligata quasi, ma mi sa che non ha intenzione, ma tutti gli altri sì. Sono così ingrata molto. A una certa età, lui si può fare molto male. Anche Vincopaudo vuole farlo. Sì, vabbè, adesso tutti, dai, no, no. Vuoi fare una spaccata? Allora, alla fine, alla fine, alla fine. Quelli che potranno fare questa performance sono i primi due che si sono prenotati. Peccassi, ma... Ma che peccato! Ma sì, va bene. Che peccato! E i primi due sono Locicero e Friscia. No, 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 no. No, 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 sono Maddalena. Maddalena Corvaglia e Luca Marin, i primi due che si sono prenotati. Andiamo. Da vicino? Allora, Silvia, che dici? Giriamoci da questa parte. Che dici, potranno, hanno il physique du role? Sì. Cosa serve soprattutto? Muscoli, braccia? Servono un po' di braccia... Sì, braccia. Sempre l'incoscienza. Un po' di allenamento. Un po' di allenamento. Eh sì. Coscienza, giusto. Sempre, sì. Se c'è un po' di eleganza, meglio. Ah, ok, va bene. Allora che ho sbagliato. Io sono qualcosa che consiglio a Yuri dopo. Eh, poi... Io ci metto la volontà e l'impegno. Va bene, allora, avete tempo, Silvia, avrà il tempo da oggi fino a venerdì per preparare loro due. Vogliamo il tutto con un bel... Si può fare. Silvia, buon lavoro, voi accomodatevi. Ciao. Accomodatevi, la prima sfida... Grazie a tutti.